Con Aldo Marchiodi del Comitato Tecnico dell'Organizzazione del Rally 1000 Emilia, qualche anticipazione sulla gara del CIR di quest'anno? La gara ricalcherà a grandi linee le edizioni degli scorsi anni, abbiamo introdotto una prova nuova per il Rally 1000 Emilia, prova testata nelle edizioni del Rally Valcamonica quando era campionato italiano due ruote motrici e un'altra prova che invece al 1000 Emilia è già stata corsa, adesso a breve penso che riveleremo il percorso anche perché il regolamento è già in FIA per approvazione e quindi diciamo che le iscrizioni sono formalmente aperte dal momento in cui il regolamento viene inoltrato alla federazione, quindi nel giro di breve caricheremo i contenuti della gara sul website della gara. Grazie, senti, per quanto riguarda logistica, arrivo, partenza, parco assistenza? Resta tutto come l'anno scorso, quindi più che collaudato il parco assistenza in prossimità del casello di Brescia Ovest, la direzione gara resta all'Automobile Club di Brescia e il timing della gara resta invariato, quindi shakedown e cerimonia di partenza e prova spettacolo il giovedì sera, prima tappa il venerdì, seconda tappa il sabato con arrivo verso le 6 e mezza, partenza e arrivo sempre in centro a Brescia. Grazie